ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi video flash video flash perché sarà molto veloce volevo farvi vedere cosa mi è arrivato ieri dal sito shop online gli sglutinati mi sono arrivate delle birre green non so se le conoscete la farina impasto io di grano saraceno che è una linea di prodotti farine senza glutine naturalmente quindi farine naturali e la farina per pizza della senz'altro poi ci sono va bene delle delle brochure un carinissimo apri bottiglie sempre della green questa è la brochure delle birre dove ci sono tutti tutte le birre che produce la green e io con questi prodotti devo preparare una ricetta originale e allo stesso tempo a parte senza glutine buonissima se avete delle idee non esitate a commentare questo video e scrivermi che cosa ci fareste voi con questi ingredienti il sito shop online sglutinati è appunto un sito dove potete trovare tanti prodotti senza glutine ricercati come questi qui che difficilmente si trovano in giro e ordinarli sul sito e riceverli comodamente a casa vostra per chi risiede in lazio può acquistarli anche con il buono ASL gli sglutinati e media partner dell'evento estivo gluten free gf pride gluten free pride e si terrà dal 21 al 28 maggio all'hotel trieste di riccione in questo evento in questi otto giorni quindi ci saranno cooking show degustazioni aperitivi tutti gluten free e quindi per noi celiaci ci saranno anche dei grandissimi chef come francesco favorito marcello ferrarini e tanti altri e se volete potete l'ingresso è libero però ci sono anche dei pacchettini personalizzati che durano tutta la settimana per maggiori informazioni per prenotare la vostra settimana da sogno tutta gluten free visitate il sito www.gfpride.com adesso inizio a pensare a cosa preparare con questi prodotti noi ci vediamo presto con una nuova videoricetta e mi raccomando se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e vi aspetto sulla pagina facebook così è un utile 100% buona un bacino a tutti dalla vostra meri ciao